mettiamo la mostra incontri all'inizio del mondo ingresso prima saletta attenzione del video piccolo quadro qui la seconda sala la seconda sala la seconda sala la seconda sala il mio quadro Alessandro la seconda sala la sala grande la seconda sala il mio quadro il mio quadro il mio quadro Ma possono anche selezionare. Grazie. 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 Fede. Alessandro. Non sono sbagliato. Il mio quadro. E' Alessandro. Arriviamo all'ultima sala piccolina. Qui ci sono solo io e Tazzola, questi sono i miei quadri, c'è un televisore con l'intervista, c'è un altro quadro, qui c'è il lavoro liberatorio.